Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno catturato un pericoloso latitante già destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla sezione GIP del Tribunale Reggino su richiesta della locale procura della Repubblica. La cattura è avvenuta nel quadro di una vasta operazione che si è sviluppata attraverso una serie di perquisizioni, sequestri ed attività di controllo del territorio nel quartiere Ciccarello e nel rione Pescatori di Reggio Calabria che fa seguito a un'intensa attività di ricerca condotta negli ultimi mesi anche attraverso numerose perlustrazione con mezzi aerei del corpo. L'operazione di quest'oggi che ha visto il dispiegamento di militari che appartengono tutti ai reparti del comando provinciale di Reggio ha permesso di denunciare ulteriori cinque persone fiancheggiatori del latitante che ne hanno assicurato rifugio e sostentamento attraverso una fitta rete di vedette e guardia spalle della consorteria a supporto del fuggitivo. Nel corso di questa attività di perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi veicoli in quanto oggetto di furto oppure non in regola con le disposizioni del codice della strada oltre ad enalo contante di dubbia provenienza. Il latitante è considerato un elemento di spicco della criminalità regina e in particolare nella comunità Rom che ha attualmente il predominio territoriale nella zona del quartiere Ciccarello. L'uomo è ritenuto responsabile di aver partecipato ad un'articolata associazione finalizzata tra l'altro al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso nell'ambito della cosca Borghetto Latella che domia nel quartiere di Reggio Calabria Sud. Per la prima volta nel territorio della provincia di Reggio è stato svelato un nuovo e pericolosissimo volto dell'andrangheta che pur di perseguire i propri interessi lucrosi, ampliare la potenza economica, rafforzare le fila militari ed estendere il proprio controllo sul territorio, è giunto anche a svingere patti gravissimi con le comunità nomadi, certamente quelle più pericolose e spregiuricate. Il gruppo attuava efferate attività criminali come reati in materia di armi, droga e alla bisogna anche condotte violente e sanguinarie. Così le comunità di Rom non solo sono state legittimate sul territorio ma, fatto ancora più grave ed inedito, hanno conquistato uno spazio di autonomia e libertà delinquenziale di estrema pericolosità sociale mai goduto prima.